Vorrei capire semplicemente come è nata questa cosa, il video, come l'hai scoperto, qual è la tua relazione magari anche con i ragazzi e come hai introdotto i ragazzi a questo video? Allora, in realtà io mi occupo ormai da anni di educazione digitale, quindi io sono psicologo, psicoterapeuta, però vabbè, a parte che lavoro proprio con i ragazzi nelle scuole e quelle delle scuole ormai da vent'anni, quindi già quello. E da tanti anni, penso ormai dal 2009-2010 minimo, mi occupo di digitale, cioè proprio nello specifico come lavoro intendo dire, quindi anche cyberbullismo, dipendenza da internet, di conseguenza anche revenge porn, tutti i rischi collegati e anche aiutare i genitori a comprendere il mondo digitale dei loro ragazzi, perché purtroppo c'è tantissima disinformazione, in parte anche portata da mass media, però a volte c'è proprio il fatto che l'adulto non conosce il digitale oppure semplicemente il digitale lo vede secondo i suoi occhi, che non sono quelli del ragazzo comunque, delle nuove generazioni. Cioè lo stesso Facebook no, perché non viene usato dagli adolescenti, però tipo lo stesso Instagram, oppure che so, lo stesso YouTube, TikTok, più o meno adesso anche gli adulti ci stanno arrivando, non viene visto, ma per ovvi motivi, va bene così, non viene visto allo stesso modo. E questo provoca sicuramente delle discrepanze, un gap. Io ritengo che il gap generazionale ormai si giochi molto su questi termini, ossia tutti utilizzano questi strumenti più o meno, magari tra quarantini saranno più su Facebook e meno su TikTok, però tutti più o meno li utilizzano, ma il vero gap generazionale oggi è come vengono utilizzati, anche la percezione che le varie generazioni hanno degli stessi identici strumenti tecnologici, che può essere lo smartphone, può essere la smart TV, oppure appunto le piattaforme e così via. Anche passando, anche ad esempio per i videogiochi, pensiamo ad esempio a Call of Duty di turno, vabbè anche il Fortnite, ci sono adulti che giochi in Fortnite, ma non lo giocano con lo stesso spirito degli adolescenti, è ovvio, è un'altra età, semplicemente. Però questo provoca la discrepanza. E poi aiuto i ragazzi ad affrontare queste cose, quindi faccio progetti nelle scuole, sia formazione agli insegnanti, incontri appunto con i genitori e anche entro nelle classi, quindi spiegando i rischi, mettendoli allerta e così via. E poi anche altri elaboratori, tipo ad esempio, qui parliamo dei ragazzini più delle elementari e medie, ad esempio l'utilizzo consapevole del mezzo, quindi ad esempio molto semplicemente lo smartphone, sia vero, è figo, serve per fare i selfie e così via, ma non solo. Allora magari un progetto fotografico oppure appunto video, in collaborazione appunto con fotografi, videomaker e così via, insegniamo ai ragazzi che lo smartphone può anche essere utilizzato per progetti più strutturati, ad esempio. Non nel scatto del momento istintivo, boom e così via. Quindi parlando dei rischi del web, a un certo punto ho cercato un video su revenge porn, perché andavo in classe, penso una terza media in quel periodo, andavo in classe e sì sì perché si sta abbassando l'età. Purtroppo. Purtroppo, esatto. Sì, purtroppo perché gli adolescenti, allora, è perché alle medie sono ancora molto ingenui da questo punto di vista, per cui succede che il revenge porn molto spesso scatta per via di sconosciuti che riescono a raggirarli in qualche modo. Voi attraverso account fake, si fingono ad esempio il ragazzo di 17 anni, che quindi abbordano una ragazzina di 13 anni e così via. Esatto. Questo succede anche con gli adolescenti e gli adulti anche. Infatti molti di miei video riguardano gli adulti. Ma in realtà gli adolescenti comunque già, fortunatamente, hanno una visione più complessa del mondo, hanno più esperienze di vita, sicuramente, sono più maturi, per cui magari cascano meno nelle mani degli adescatori, non sono a riparo al 100% ovviamente, però cascano meno. In molti casi, nel loro caso, il revenge porn si manifesta proprio un po' come anche nel tuo, come mostri benissimo te nel tuo video, per il raptus, ossia la coppia che scopia, la definisco così. Ok? Quindi la ragazzina che fa sicuramente attenzione, non va a mandare il suo contenuto al primo che trova su Instagram e così via, quindi fa molta attenzione. Poi si mette insieme a uno o una, comunque a un partner, da cosa nasce cosa? Nasce questo gioco del sexting, che va bellissimo, è naturale, solo che ad un certo punto la coppia, va bene, come capita tranquillamente, poi nell'adolescenza ancora di più, però avviene l'impulso, boom, allora ha questa, eccetera, eccetera, adesso gliela faccio vedere io. Salvo poi, magari anche la stessa persona, poi dopo se ne pente, però purtroppo ormai il video e la foto sono già in giro, sappiamo benissimo che non si può tornare indietro. Assolutamente. Esatto, cercando un po' questo video, cercando un po' appunto dei video su revenge porn, ho trovato il tuo bellissimo, ti faccio i complimenti pubblici perché stiamo già registrando. Grazie. Ti prometto che se teniamo questo pezzo non li tagliamo, questi complimenti. Perché? Allora, è un video che non, innanzitutto, non demonizza il sexting in quanto tale, ok? Ma fortunatamente si concentra sul revenge porn, perché l'altra criticità che ho sempre osservato nei confronti degli adulti, intendo dire, cioè come gli adulti vedono queste cose, è che demonizzano tantissimo proprio la pratica del sexting in sé. No, assolutamente. Quindi, esatto, quindi quando parlano di problemi legati all'utilizzo, inseriscono il sexting e il revenge porn come un tutt'uno. Cioè è vero che il revenge porn deriva, non sempre, perché a volte si parla proprio di sextortion, quindi io proprio in qualche modo ti ricatto e faccio in modo di ottenere. Però molte volte deriva dal sexting, ovviamente, perché se io non condivido, se io non faccio sexting, è difficile l'altra persona ottengo un'immagine di me che potrebbe compromettami, ovviamente. Assolutamente. Quindi, sicuramente, ma il problema non è il sexting, è quello che potrebbe venire dopo. Certo. Ok, quindi, poi sicuramente il messaggio che lanci tu, bellissimo, alla fine, è che l'unico vero modo, infatti il messaggio mi piace lanciare poi ai giovani, alla fine di tutti i laboratori di questo tipo, è che alla fine il vero, la vera forma di protezione è quella, vuoi vedere le mie foto particolari, eccetera, eccetera, le guardi dal mio cellulare, le guardiamo insieme. Non te le mando, però, ricordandomi, ovviamente, di non demonizzare il sexting, quindi anche con i ragazzi sono sempre molto chiaro, ossia il problema non è il sexting, ma quello che potrebbe venire dopo. Quindi, concentriamoci, secondo che anche gli esperti ormai sono sempre più concordi, cioè stanno facendo un'inversione di rotta, ossia sono sempre più concordi sul fatto che non ha proprio più senso tentare di impedire ai ragazzi di fare sexting. Guarda, secondo una ricerca molto recente, italiana per di più, l'80% dei ragazzi intervistati ha dichiarato di fare sexting. Parliamo di adolescenti dai 14 ai 18 anni, e non è una questione di immoralità, come possono pensarlo certi, eccetera, eccetera, perché dietro il sexting c'è la scoperta di se stessi, il proprio corpo che cambia, quindi anche valutando in base alle reazioni delle altre persone, c'è il fatto anche di una certa approvazione del proprio corpo, il proprio corpo che diventa automaticamente di approvazione di se stessi. Anche parte della scoperta dell'intimità con l'altra persona. Esatto, esatto, esatto. Quindi oramai diciamo che i progetti e i programmi più evoluti, diciamo più recenti, mirano appunto non a spiegare ai ragazzi come non fare sexting, ma come farlo in modo più sicuro. Mettendoli però al corrente, nel senso, guarda che anche se tu adotti tutte queste tecniche, quindi non ti fai riprendere il volto, non c'è nessun elemento che sia riconducibile a te, tipo tatuaggi, piercing, o che ne so, elementi particolari della tua camera da letto e così via, però sappi che comunque c'è sempre una percentuale di rischio. Noi possiamo ridurre la percentuale di rischio, ma non azzerarla completamente. E quindi quello che mi è piaciuto del tuo video è che riprende proprio, oltretutto, il tipico, è molto equilibrato, per cui riprende il tipico caso di revenge porn come avviene tra i ragazzi. Ossia, una coppia tranquillissima, che poi per qualche motivo litiga molto furiosamente, allora in Predator Raptus il ragazzo, in questo caso il ragazzo, boom, che la faccio vedere. Stavo poi pentirtene comunque, però da lì poi parte il calvario per la ragazza. Quindi mi è piaciuto molto per questo, perché altro elemento è che spesso, purtroppo, si pensa a chi commette il revenge porno e al bastardo di turno, a quello che premedita tutto quanto. Quello è sextortion. E' proprio questo il fatto che molto spesso le persone nelle quali ci si fida, poi magari possono cercare di compromettere la nostra integrità, mandando in giro i nostri dati sensibili. E' questo che può fare la differenza, cioè le persone di cui magari ci fidiamo. Esatto, quella è solo una parte della questione, perché ripeto, il più delle volte avviene in... Anzi, assolutamente non so. Infatti mi piace poi, perché il bello di questo video è che va al contrario, poi infatti ti chiederò. Ossia parte dalla fine e poi arriva all'inizio. Mi piace molto quando parlo con i ragazzi, ma anche con i genitori in realtà, quando spiego questi fenomeni, fermarmi proprio su una delle scene che stanno quasi alla fine. Ossia quando si vedono i due ragazzi tranquillamente seduti sul moretto, che si sorridono, stanno chiacchierando e in qualche modo si stanno piacendo in quel momento. Spiegando proprio, spesso tutto parte da qui, un ragazzo e una ragazza, o comunque due adolescenti, due ragazze che si piacciono e si mettono insieme, punto. Anche un po' per spiegare ai ragazzi che questi problemi possono insorgere anche attraverso i percorsi, appunto, insospettabili. Senza cotevolizzare nessuno in questo caso. No, no, ma diciamo che molto spesso accade che il ragazzo, quando si termina una relazione, poi magari ne parlerò più tardi, mentre inizieremo il video, è nato tutto da un episodio che è avvenuto nella mia cittadina, dal quale abbiamo preso spunto. È come se il ragazzo, durante la vendetta, avesse avuto una sorta di sindrome da trofeo, cioè avesse iniziato a condividere questi contenuti perché in qualche modo il successo mediatico lo appagasse. E quindi è molto importante non sottovalutare quanto magari degli effetti stabili possano creare dei problemi, sebbene comunque noi ci fidiamo di loro. E quindi bisogna stare attenti, assolutamente. L'educazione al cyberbullismo e alla sensibilizzazione sul cyberbullismo è necessaria, è fondamentale nel 2020, ma in generale con il progresso del futuro, con il progresso della tecnologia. Sì, sì, sarà sempre più fondamentale, tra l'altro, anche perché, come ho detto prima, vediamo che l'età si abbassa anche per i propri motivi, perché man mano che i nostri ragazzi, ormai diciamo i nostri bambini, accedono ad un dispositivo proprio. Cioè quindi io parlo del cellulare non mediato dalla madre o dal padre, tipo il WhatsApp lo usi dal mio cellulare, ma proprio questo è il cellulare, mi raccomando, fanno il buon uso. Man mano che la soglia di accesso si abbassa, è normale che ci siano, sia matematicamente parlando, più ragazzini esposti a questo genere di pericoli. E ahimè, dal momento che l'età si abbassa, troviamo sempre, questa esposizione avviene su fasce di età che sono sempre meno preparate e attrezzate per difendersi da questi fenomeni, perché ovviamente non possiamo pretendere che un bambino di dieci anni abbia la stessa maturità di un ragazzo di 15, 16, 17, oppure di un adulto di 30 anni. Certo. Per cui sicuramente questo impone anche vari accorgimenti. Quindi tu sei partito per il tuo video proprio da un fatto realmente accaduto, stavi dicendo, giusto? Sì, allora, questo video in realtà è la risultante di tanti eventi, tante cose che sono successe nel mio paesino. È nato tutto da un concorso che si chiama No Hate Speech ed è un concorso nazionale per le scuole. Io ci tengo a precisare che comunque questo video è stato realizzato in ambito scolastico e eravamo tutti molto più piccoli di adesso. Adesso ho 22 anni e mentre il video è stato realizzato quando ne avevo 17, ho ragazzi ancora più piccoli di me. Una mia professoressa, che è una professoressa di diritto, la professoressa Nisi, ci ha in qualche modo spinti a creare questo contenuto audiovisivo perché per partecipare a questo concorso era necessario comunque dover sensibilizzare il nostro pubblico sul cyberbullismo in generale comunque dare una nostra visione originale ponendo magari sotto esame delle questioni come per esempio il revenge porn e parlando insieme siamo riusciti poi a strutturare questo video e ci siamo appunto soffermati sulla vendetta dell'appunto del revenge porn. La cosa che ha fatto la differenza secondo me è stato aver indirettamente avuto questa esperienza del revenge porn nella mia cittadina. Cioè io andavo a liceo in una città che si chiama Sturi. Purtroppo, più o meno quando facevo il terzo o quarto anno, una ragazza della mia età o poco più grande, comunque ci passavamo un paio di anni, è stata vittima di revenge porn e ha tentato anche l'estremo gesto. Purtroppo quello che è accaduto, quello che c'è dietro a questo evento è molto più grande di come lo sto descrivendo. Ovviamente per ovvi motivi non posso fare il nome delle persone coinvolte, però io posso dire che cosa è avvenuto perché è qualcosa di veramente grave. Tutti conoscevamo questa ragazza, l'ex ragazzo ha creato un profilo fake su Facebook, ha mandato la richiesta di amicizia a tutti quanti, come se la ragazza avesse perso la password del suo profilo e quindi avesse creato un nuovo account, ha inviato a tutti la richiesta di amicizia, quando abbiamo accettato, ha cambiato poi l'immagine del profilo con un nudo integrale della ragazza. dire che l'ha sconvolta e dire poco e comunque questo evento purtroppo penso le abbia segnato la vita perché abbiamo saputo che ha tentato l'estremo gesto con grandissimo, grandissimo dispiacere e da qui poi siamo partiti con l'elaborazione del soggetto per il video. Ovviamente io ci tengo a sottolineare che va fatta, in generale, senza che accadano questo tipo di eventi, va fatta un'educazione. Devono essere fatti dei corsi, come appunto i tuoi corsi all'interno delle varie classi, superiori, medie, anche di grado superiore, perché purtroppo il pericolo è sempre dietro l'angolo e come abbiamo detto finora non ci si può, non dico che non ci si possa mai fidare, ma in generale è sempre meglio non inviare dei dati sensibili di questo tipo perché diciamo che il revenge porn non avviene soltanto tra persone sconosciute, ma avviene anche tra persone delle quali appunto ci si potrebbe in generale fidare, come per esempio il tuo attuale partner, nel quale magari puoi avere delle discussioni, magari il rapporto può finire male o può impazzire, non lo so. In generale dare del materiale degli altri così importante non è la scelta migliore, a mio avviso. Oppure ci si può anche erroneamente, il partner, ovviamente sto parlando di lui, si può anche erroneamente fidare in buona fede del suo migliore amico, ad esempio. Assolutamente. Quando ovviamente prima dei cellulari comunque, ovviamente non esisteva il revenge porn per ovvi motivi, insomma prima del digitale, però questo fatto di, soprattutto ad una giovane età, ok, questo fatto magari di vantarsi presso gli amici, adesso io ti parlo da maschio. Assolutamente, capisco, assolutamente. Di vantarsi, dire, oh raga ma sapete con che gnocca mi sono messo ieri, domani sera la vedo e così via, o magari anche gli altri, magari gli amici che ti devono passare, magari con una gnocca pazzesca, di gnocca ovviamente perché a quei tempi uno ragionava in questo modo, insomma io dico sempre che da adolescenti siamo stati tutti un po' cazzoni, poi fortunatamente si cresce. Sì, infatti, dai, diciamocelo, no? E allora succedeva che, appunto, magari anche gli amici stessi, oh, complimenti, o magari mentre passavi, tu vedi qualcosa dell'occhio che da lontano facevano il segno per dire ok, o magari e così via. Quindi ecco, ovvio, poi non facevi Revenge Porn perché non esisteva, perché mancavano proprio gli strumenti, non esistevano neanche i cellulari. Gli strumenti per farlo, certo. Esatto, esatto. Però comunque a livello goliardico queste cose sono sempre esistite. Quindi ecco che magari tra sposto poi ai tempi moderni, 2020, per cui c'è il digitale, allora ecco che una persona, un partner, rischia di commettere questo errore. ossia anziché fare come una volta, appunto, semplicemente tipo il sabato sera, oh, ma avete visto, pensate, questa, eccetera, eccetera, poi magari partivano anche le descrizioni fisiche molto dettagliate, oggi invece magari ci si vanta mandando magari una foto di lui o di lei, dicendo, guarda, mi raccomando, non ricondividerla, la mando solo a te, o magari un gruppo di WhatsApp in cui si ha proprio tre, quattro amici intimi, perché io non sono scemo, faccia attenzione, e la mando solo lì, stappendo, guardate, però mi raccomando che se gli becca a lei poi mi ammazza, robe di questo tipo, il problema è che in quell'atto goliardico, esatto, perché in quell'atto che è puramente goliardico, non c'è nessuna cattiva fede, c'è magari superficialità, ignoranza, se vogliamo, ma non c'è una realtà cattiva fede da parte di una persona, però con quell'atto goliardico, alla fine quel contenuto non è più sotto il tuo controllo, perché sapevo benissimo che il contenuto del tuo cellulare non è più di tua propria, perché tu condividi una foto in un gruppo, allora poi magari di conseguenza gli altri amici del gruppo, sempre in buona fede, o guardate con che gnocca si è messo un mio amico, però già perdi il controllo di tutto, perché tu che avevi effettuato la prima condivisione, non è più il controllo, esce dalla tua cerchia di conoscenza quel contenuto e da lì in poi inizia a godere di vita propria, solo che in quel contenuto c'è una persona e quindi la cosa diventa non più goliardica, ma assume appunto toni anche seri e sicuramente anche tragici, quindi questo sicuramente c'è da... Sicuramente una cosa che c'è da dire è che molto spesso ci si concentra sul dire possiamo tutti essere vittima, ma io direi anche che possiamo essere tutti anche carnefice, perché con l'atto goliardico di poter inviare una foto ad un amico non facendo attenzione e fidandosi di un'altra persona, nonostante comunque quella persona sulla quale si è riposti la fiducia per l'invio di un dato sensibile come una foto di un nudo, siamo noi quella persona, quindi possiamo in un attimo diventare anche carnefici e su questo bisogna secondo me anche porre l'attenzione oltre ad avvisare i ragazzi a dire che potete essere delle vittime, potete anche essere dei carnetici, assolutamente, non mi stanco mai di dirlo. Purtroppo quando si dice... Hai detto benissimo, molto spesso tra noi maschi c'è questa sorta di volersi vantare, voler far capire, ai propri amici, guarda con chi mi sto frequentando, molto spesso questa cosa è accaduta anche tra me e i miei amici. Purtroppo c'è stato anche un caso, io mi ricordo, ero un po' più piccolo, avevo più o meno sui 15-16 anni, un ragazzo più grande della mia critica di amici mi fece vedere una foto, e io questo non lo sto inventando, è vero. Purtroppo è successo, questa cosa mi ha fatto pensare, mi ha fatto pensare. Poi dopo un paio d'anni è successo qualche successo riguardo all'evento di Revenge Porn, questa è la dimostrazione che in realtà questo evento è accaduto dal vivo, cioè lui mi ha fatto vedere la foto mostrandomi il cellulare, che è diverso, è comunque diverso, è un atto che non dovrebbe mai essere fatto, ma è comunque diverso dall'involtare la foto, perché io ho tornato a casa, non avevo il dato sensibile con me, ma avevo il ricordo, che è comunque una violazione, però è un'altra questione, sicuramente dal vivo il danno è minore, questo non voglio dire che deve essere fatto, ma sicuramente il danno è minore. Sì, è molto più circoscritto, esatto, quello sicuramente, sì, sì, e quindi fai capire, e poi è da lì, ma vevi in mente, adesso tu sei un filmmaker, videomaker indipendente, allora, sì, sei, no, allora spiego, spiego per chi ci sta seguendo in questo momento, noi abbiamo una scaletta, che ovviamente non stiamo seguendo, però a me piace anche che ovviamente le persone che intervisto raccontino anche un po' di steak, anche un po' una forma di riconoscimento, che lo dico proprio tranquillamente, nel senso ti ringrazio Matteo per il tempo che mi stai dedicando, perché tu avresti potuto benissimo dirmi, guarda Ivan, sono occupato, facciamo un altro anno, ok? No, facciamo un piacere, assolutamente. Per cui ci mancherebbe, quindi, già che ci siamo, penso che siamo già a metà video, però, conosciamoci meglio. Ok, allora, io sono Matteo Maggi, ok, finalmente abbiamo il mio nome, vai, sono laureando in discipline dell'arte e dello spettacolo, opero a Torino, sono un videomaker, filmmaker, che dir si voglia, faccio lavori di videografia e di fotografia su commissione, o per piacere personale, come in questo caso, questo video, riapro la parentesi di prima, io sottolineo che comunque avevo 17 anni, riguardando questo video, quando l'ho riguardato, perché comunque non l'ho riguardato da almeno un anno o due, ho notato una marea di errori tecnici, ma quello che mi ha fatto davvero piacere è che comunque il messaggio sia arrivato, ed era questo l'obiettivo principale quando abbiamo realizzato il video con gli altri ragazzi, perché ovviamente non ero da solo, avevo un gruppetto di amici e di compagni di scuola, non di classe, erano più piccoli di me, con il quale abbiamo realizzato questo video, ci siamo divertiti un sacco, comunque nonostante il tema fosse così delicato, mettersi alla prova è comunque sempre una bella cosa, ci siamo divertiti e abbiamo realizzato questo prodotto, che poi in realtà non abbiamo vinto nessun progetto, nessun concorso, no hate speech, io non so neanche in realtà in quale posizione ci siamo classificati, però mi fa piacere che comunque sul web abbiamo riscorso minimo successo, comunque stiamo parlando veramente di poche migliaia di visualizzazioni, però il fatto che sia stato portato all'interno di contesti scolastici, che comunque anche altre persone si siano interessate, che abbiano fatto addirittura degli articoli di giornale, io mi ricordo che qualche anno fa il video venne ricondiviso addirittura da Paolo Fili, che diceva perché, non lo so, non ne ho la più pallida idea su Facebook. Evidentemente ha riconosciuto la validità. Ma non lo so, penso che sì, la butto lì così. Spero sì. In ogni caso a me fa piacere che appunto sia stato notato il messaggio e non la tecnica, perché purtroppo di tecnica, perché è un video realizzato con veramente moltissimi mezzi, però questa è la dimostrazione che ogni tanto, anche se non si hanno delle produzioni oligodiane, il messaggio comunque si può fare arrivare. Quello sì. E anche, esatto. Questo dimostra due cose, soprattutto, almeno dal lato mio. Prima di tutto, più a livello appunto tecnico, che la vera differenza la fa proprio la costruzione del progetto. Cioè, l'hardware viene poi in ultima analisi, quando magari, anche a volte, anche alcuni colleghi, nel senso io appunto faccio video, faccio, io uso, in questo momento sto usando un iPhone, insomma, certo, ok, non è un Android, senza offeso, un Android da 100 euro, senza offeso, più a meno. No, per dire, perché iPhone da 100 euro non esistono, sennò avrei detto un iPhone da 100 euro, ma per dire, ovvio che comunque ci spendi un pochettino, ci mancherebbe, è una fotocamera buona, e tutto quanto, però di sicuro non sono attrezzature da migliaia di euro, è ovvio che farebbe piacere averle, però il vero, la vera differenza la fa chi, appunto mi dicevi tu, il contenuto, il messaggio, e come è organizzato, come è organizzato tutto quanto, questo sicuramente, e peraltro, forse un po' più da web marketer, adesso esco il web marketer che è me, ossia, che quando fa, organizzi dei video, sopra dei contenuti, dei prodotti così di nicchia, quello che conta tantissimo, è il tasso di conversione, tra virgolette, ossia, è ovvio che un argomento così di nicchia, te lo dico per esperienza, perché io appunto realizzo video in questo senso, difficilmente raggiungi un milione di views, ovviamente, ci mancherebbe, perché non sarebbe, non dispiacerebbe, però nella realtà dei fatti non succede, però quello che importa, appunto come hai accennato tu, è che comunque il tuo messaggio arrivi alle orecchie, o agli occhi delle persone giuste. Assolutamente. Quindi, anche io sarei felicissimo in ogni caso, che magari questo messaggio fosse arrivato, anche soltanto ad una persona, anche soltanto a quella persona di cui ne avranno bisogno, e quindi sarei contentissimo, mi basta questo. Poi in realtà, i mezzi importano fino a un certo punto, la cosa incredibile è che, parlando squisitamente di soldi, i mezzi con cui ho realizzato questo video, insieme ai compagni, erano veramente ridicoli. Ci penso adesso che comunque, sono entrato nell'industria pubblicitaria, nell'industria in parte cinematografica, e penso, in rapporto a quello che ho adesso come mezzi, quello con cui ho realizzato il video, prima, io l'ho realizzato con una reflex, che costava intorno ai 300-400 euro. Cioè, stiamo parlando di un prodotto, di un prodotto che costa quasi la metà, di un iPhone, c'è quasi la metà di un dispositivo, come tutti quelli che abbiamo ogni giorno, ogni persona ha un telefono in mano. Certo. E addirittura, adesso, la qualità dei telefoni, è superiore a quelle reflex di fascia bassa, quindi qualsiasi persona, volendo, ha a disposizione del mezzo per poter girare. E qui, c'è un altro piccolo dettaglio, che mi sta venendo in mente adesso. ho visto, rianalizzando le scene, che ci sono dei piccolissimi movimenti di macchina. Quindi, i movimenti di macchina, di solito, si realizzano o con degli stabilizzatori, o comunque con dei carrelli, cioè muovendo la macchina su dei supporti. Sono andato a guardare nel mio magazzino e ho trovato l'accrocchio con il quale ho fatto questo movimento di macchina. Ed è una cosa incredibile. Io non mi ricordavo assolutamente. Ho preso due binari di un cassetto, li ho montati con le viti su un pezzo di legno, ho montato sopra una testa di un cavalletto da 5 euro e ho creato un minicarrello. Veramente, si può fare a casa con delle sciocchezze, magari di piccolissimi movimenti di macchina. Quindi, sono contento di averlo ritrovato. È molto interessante, molto interessante. Sì, sì, è un po' quello che abbiamo detto prima, certo. Potremmo anche andare avanti, ad esempio, citando, ad esempio, io ho visto dei video proprio di recente di ragazzi credo della Nigeria, mi sembra. Comunque, mi sembra che fossero proprio nigeriani. ho capito. non so se sei presente, e praticamente realizzano, non dico film, però cortometraggi, forse addirittura lungometraggi con un cellulare. Perché, vabbè, anni e mezzi che hanno, però, cavoli, vuol dire che è possibile. Certo, è ovvio che se poi hai dei dispositivi all'avanguardia, è ovvio che il lavoro è molto più semplice, è tutto più fluido, è tutto più facile, ci mancherebbe. Però diciamo che se veramente tu vuoi veicolare un messaggio, al giorno d'oggi, comunque, non ti mancano i mezzi. No, assolutamente. Parlando di temi di messaggio, certo, è ovvio che se poi mi dici il 4K si vede meglio di un 720, vabbè, è lì ovvio che ti serve un dispositivo migliore, però, quelli diventano poi dettagli tecnici. Molto interessante. Parlando dei, quindi, parlando dello stile, delle scelte stilistiche, legate al tuo video, perché a me hanno molto colpito alcune cose, che però vorrei che le spiegassi tu, perché ovviamente, è meglio di te, non voglio spoilerare nulla, a limite, se ti sei dimenticato di qualcosa, poi te le ripiglio io, ok? Assolutamente, va benissimo. sono tante cose, oltretutto, lo accenno, molto veloce, e lo anticipo, sono scelte stilistiche che in effetti rendono il messaggio ancora più potente, ok? Sì, allora, secondo me, la scelta stilistica più importante è quella del montaggio, assolutamente, perché, allora, noi abbiamo strutturato in ordine cronologico il nostro, il nostro piccolo cortometraggio, e abbiamo detto, dobbiamo raggiungere il punto Z partendo dal punto A. Quando l'ho messo poi sulla timeline, io mi sono detto, quasi inconsciamente, ho fatto riferimento ad un video, che è un video che si chiama Breeze Blocks, ed è un video musicale degli Alt-J, un gruppo famosissimo, che è al contrario, e io inconsciamente ci ho pensato, perché la scena iniziale di Breeze Blocks è esattamente uguale, ovviamente con differenze tecniche enormi, è esattamente uguale alla scena di Cyber Rewind, perché c'è una donna che tenta il suicidio, in questo caso, non che tenta il suicidio, ma che comunque è morta nel video di Breeze Blocks, dentro una vasca. Evidentemente, il mio cervello ci avrà pensato e ha detto, boh, partiamo dal fine. Rivedendole, rimuttando tutto al contrario, non dico che avesse più senso, ma certamente ha un impatto diverso sullo spettatore, perché quello che a noi interessava tantissimo, e si vede anche nella sequenza, nella mini sequenza onirica, quando noi scriviamo a caratteri cubitali, poi, gli insulti sulla pelle della nostra protagonista, io lì ho detto, noi, diciamo che l'obiettivo principale del video è dare un messaggio, è dare un modo più forte possibile, perché è inutile essere delicati, inutile essere in qualche modo, non andare su pesante, bisogna andare dritti, soprattutto quando si hanno pochi minuti a disposizione per colpire l'utente. Abbiamo deciso, a questo punto, di far partire il nostro cortometraggio dal fine. E poi, man mano che si arriva verso la conclusione, cioè all'inizio, abbiamo poi ribaltato la situazione, ho visto che in realtà molti sotto i commenti non hanno capito esattamente questo piccolo dettaglio. Abbiamo pensato di inserire qualche altra scena in più dicendo e se non fosse mai caduto? E se il nostro carnefice avesse cancellato l'immagine? Che cosa sarebbe successo? E quindi, diciamo che poi c'è un lieto fine, ma che in realtà non è il vero lieto fine. Diciamo che, sì, l'unica scelta stilistica che mi sento di sottolineare è quella appunto del montaggio. Per il resto, comunque a parte magari la suddivisione in macroscene, diciamo che fondamentalmente è l'unica che mi sento di sottolineare. Poi alcune scelte stilistiche come la fotografia, insomma, non è il caso. Non è il caso. Non bisogna mai vergognarsi delle opere prime. Io non penso che Picasso si sia mai vergognato o si fosse in realtà mai vergognato, almeno penso. No, non lo so, ma guarda, in realtà è una cosa che succede anche nell'arco di due o tre mesi. Cioè, se dovesse riguardare i lavori che ho svolto due o tre mesi fa, comunque noterei un sacco di errori che magari una persona che non svolge il mio lavoro non nota. Non nota. Certo. purtroppo può essere un pregio o può essere un difetto. Quando si notano determinati difetti non ti togli dalla testa e vai avanti pensando se avessi fatto diversamente. Però vabbè, non importa. Invece quali erano le scelte che vi hai notato tu? Principalmente questa. Questo tempo, questo è quello che io definisco, forse erroneamente, non sono un tecnico, però il tempo inverso sicuramente è molto utile perché poi io poi avendo l'opportunità di entrare nelle classi e quindi mentre mostro il video comunque vedo le reazioni dei ragazzi è veramente ottimo perché subito aggancia i ragazzi già con il finale, un finale molto d'impatto, tragico però d'impatto e poi succede tutta la curiosità andando indietro nel tempo nel vedere come si è originato tutto. Quindi questo sicuramente. Salvo poi appunto verso la fine come hai detto tu c'è un po' questo twist per cui questo ribaltamento della vicenda per cui alla fine c'è comunque un lieto fine. Questo anche secondo me è molto azzeccato perché così lasciamo anche ai ragazzi anche un senso di speranza proprio per non demonizzare il mail di dispositivo e il cellulare o l'attività del farsi foto come dicevamo all'inizio. Questo sicuramente. Forse ecco non è una cosa negativa attenzione quello che ho notato è che nelle fasce un po' più giovani questo tempo inverso fanno un po' fatica a stargli dietro. Ok? Nel senso che poi dopo perché poi alla fine soprattutto ad esempio alle medie beh quando poi sono superiori i ragazzi capiscono perfettamente tutto ci mancherebbe però ho notato soprattutto alle medie prima io già in terza media parlo di sexting e revenge porn perché già ci sono casi anche segnalati di questo tipo e quindi entro e quindi in alcuni casi mostro il tuo video alla fine magari alcuni ragazzi rimangono un po' così dicono ma alla fine com'è finita? Ma alla fine la ragazza è morta o si è scopata? Perché se tu lo sai meglio di me se vai ad analizzare le produzioni anche quelle del mainstream tipo Hollywood tipo che vengono proprio strutturate per quelle fasce di età sono in realtà molto lineari assolutamente per cui da A a B a C a D anzi in più delle volte addirittura sono tante sottoscene appunto sotto capitoli in qualche modo autoconclusivi per cui non ti richiede di ricordarti che dopo un'ora e mezza tu dovevi ricordarti di quello che era successo un'ora e mezza fa e via sto estremizzando però molto spesso e così via quindi sono anche meno abituati a questi intrecci un po' particolari però da tra parte anche un bene perché gli aiutiamo a ragionare assolutamente sono d'accordo sul fatto che non siano abituati perché comunque esatto c'è sempre una sorta di sviluppo lineare dello spazio cronologico poi un film che mi viene in mente in realtà parlando di montaggio parlando di in realtà mischiare le carte a livello cronologico un film che sicuramente sarebbe difficile comprensione per una età più giovane sarebbe un film come Memento Memento di Christopher Nolan Memento dove praticamente le scene sono mischiate il montaggio è un po' all'inverso un po' cioè diciamo c'è questo montaggio alternato e quindi però appunto così come nelle produzioni filmografiche anche in quelle magari di serialità televisiva c'è sempre uno sviluppo lineare cioè si tende al massimo ad andare avanti con flashback per cercare di ricordare all'utente quello che è successo prima in generale ecco oppure che ne so al massimo la cosa che si può fare per cercare in qualche modo di colpire lo spettatore e partire in media stress comunque iniziamo in punto svolto già del punto già quasi conclusivo della della storia per poi ricominciare dal capo le scelte si possono fare in realtà quando tu hai un prodotto dalla A alla Z lì puoi decidere tutto o in preproduzione o in montaggio dipende anche qual è il target del prodotto in questo caso non ho pensato realmente a quale fosse il target in generale ho pensato ad un ragazzo più o meno della mia età che si immedesimasse nella protagonista o nel carnetice assolutamente non lo scudo e che magari si mentisse in caso e quindi ho pensato più che altro a dare un messaggio forte sin dalle prime battute e nulla questo era l'unico obiettivo ok l'altra scelta che mi è piaciuta è il fatto di rappresentare tutto quanto salvo poi il pezzettino proprio finale a rallentatore ah non te lo ricordavi no sì diciamo che la scelta del rallentatore devo essere sincero non l'ho non l'ho pensato come se fosse qualcosa di realmente importante però può avere importanza in merito alla frase finale time cannot be rewind cioè il il tempo non può essere non è andato indietro non può essere rivolto quindi diciamo che a volte se si pensa un po' di più se si dà magari quei dieci famosi secondi a cui possiamo che possiamo dare all'nostra mente per pensare e per magari evitare di commettere determinati errori possono fare le differenze allora in quel caso forse il tempo a rallentatore servirebbe sì che so magari possiamo dare questa situazione è bello questa idea questo messaggio perché come già detto prima molto spesso non sempre purtroppo però diciamo molto spesso i casi di revenge porn originano proprio da un impulso dall'impulso del momento non sempre perché a volte purtroppo c'è proprio una premeditazione dietro con un piano e così via però se parliamo proprio del tra virgolette tipico caso di non solo tra ragazzi in realtà però stiamo parlando di loro sicuramente molto è dovuto all'impulso del momento tant'è vero che poi l'altra persona poi se ne pente anche c'è la stessa persona che dopo se ne pente però purtroppo è troppo tardi quindi questo sicuramente voglio chiederti anche allora innanzitutto quali difficoltà hai incontrato nel realizzare questo video o avete incontrato ovviamente siete anche un team quindi allora in realtà me ne viene in mente una in particolare che è molto significativa è molto significativa perché mentre stavamo girando le varie scene c'è stato il momento in cui la protagonista si è dovuta scattare un selfie in cui non si vedesse moltissimo diciamo il seno ma che comunque desse l'idea ovviamente è lungi da me fare un selfie magari davanti a tutti quanti con ci mancherà l'idea l'idea assolutamente è una cosa bella da dire secondo me perché lei si è vergognata ma non perché c'eravamo noi ma perché proprio non voleva farlo ma perché questo perché eravamo tutti reduci dalla notizia di questa ragazza che era stata coinvolta in questo scandalo diciamo in questo episodio di cyberbullismo e quindi tutti ci pensavamo di più eravamo tutti più consapevoli io posso con certezza dire che grazie ai laboratori ma soprattutto grazie a quell'evento sicuramente ne siamo usciti tutti da questa esperienza più consapevoli e più capaci di discernere le cose positive da quelle negative non dico che sia tutto bene e male perché per esempio il sexting può essere del bene può essere del male a seconda di come lo si interpreta però la consapevolezza fa la differenza e una ragazza quando ti dice non vorrei scattare un selfie del genere ti fa pensare che magari determinate cose insegnano sono delle lezioni di vita purtroppo i media hanno bisogno sempre di questi scossoni per per poter poi parlarne attivamente per poter diciamo raccontare queste storie io vorrei che non fosse così perché purtroppo si arriva sempre alla fine a parlarne e vorrei che magari se ne parlasse prima quindi prendere tutto quando siamo ancora in tempo perché poi magari succedono delle cose che sono terribili sono molto più grandi del singolo caso di revenge porn mi riferisco al caso telegram che penso sia il caso più eclatante soprattutto in questa quarantena penso che sia una cosa veramente assurda e ignobile che riguarda in realtà ragazzi della mia età della mia attualità perché ho scoperto che poi la mente criminale che era dietro a tutto questo processo a questa macchina pedocornografica di telegram era un ragazzo di 20 21 anni più o meno e quindi mi fa molto pensare assolutamente ricordando ovviamente che come abbiamo detto ormai tante volte anche oggi il vero problema non è telegram in sé anzi è utilissimo il problema come lo usi adesso tu hai citato quel caso lì appunto però ricordiamoci che ad esempio lo stesso telegram cioè lo stesso staff di telegram ogni giorno va a setacciare i canali e i gruppi che vengono segnalati e poi li chiude quindi tanto è vero che telegram ha addirittura aperto un canale abuse stop child abuse una roba di questo tipo adesso cito a memoria che attraverso il quale ogni giorno loro proprio pubblicano il bollettino dei canali e i gruppi che hanno chiuso in giornata ed è pazzesco vedere proprio l'enormità di questi di questi canali attenzione qui parliamo di appunto un materiale pedopornografico pedopornografico assolutamente non i canali di pirateria e così via quindi è ancora più angosciante perché parliamo sono numeri enormi solo per questo fenomeno ed è pazzesco ma per darti un'idea te lo dico in tempo reale perché ho qui davanti telegram giusto perché ecco stop child abuse il canale si chiama ti dico solo che ieri sì ieri 28 maggio 2020 hanno chiuso solo nel giorno di ieri 273 tra gruppi e canali dal primo maggio perché poi ti mettono anche il report del mese e dal primo maggio al 28 quindi ormai stiamo per concludere il mese siamo a 8136 a ieri consideriamo che oggi è il 29 maggio manca ancora qualche giorno quindi sicuramente il numero aumenterà assolutamente sono comunque attorno ai 3-400 tra canali e gruppi chiusi al giorno ce l'ho qui davanti quindi ho tutta la timeline ok quindi questo per dire quindi questo sicuramente il problema appunto come dicevamo prima non è lo strumento e neanche la pratica di per sé del sexting appunto ma è come viene utilizzato e le eventuali conseguenze che potrebbero emergere dopo questo questo assolutamente non c'entra il mezzo in questo caso perché comunque è una cosa che si potrebbe fare benissimo su facebook su whatsapp su telegram su instagram cioè non c'è differenza anzi esatto infatti telegram garantisce un maggiore un maggiore anonimato ma ricordiamoci che soprattutto se parliamo di ragazzi i ragazzi non fanno queste cose su telegram ma le fanno tranquillamente su whatsapp proprio perché è l'impulso del momento quindi io non sto a pensare che se io condivido questa cosa poi comunque rimane segnato il mio numero di telefono possono risalire a me e così via perché su whatsapp appunto non c'è l'anonimato come su altre piattaforme però avviene pensiamo ad esempio facebook ad esempio è ancora peggio pensiamo a tutti i vari gruppi di facebook che ogni volta vengono chiusi dalla polizia posta ovviamente che parlano di operano praticano purtroppo queste cose parliamo di revenge porn e robe di questo tipo ovviamente sexting e così via una domanda che ti sei documentato sul revenge porn in quel periodo perché oltretutto parliamo di cinque anni fa il fenomeno era praticamente sconosciuto nel mainstream adesso se ne parla tantissimo però mi ricordo sicuramente ci sono crescerte pensa che cinque anni fa addirittura quando io parlavo di delle cose che faccio di cyberbullismo trovo tranquillamente era proprio la norma persone che non capivano l'utilità di quello che io stessi facendo ma non peraltro perché erano fenomeni ancora sconosciuti il digitale in Italia è sempre arrivato più tardi per cui è esploso poi dopo un po' anche grazie alla legge ferrara che ha dato una spinta poi nelle scuole per i progetti e così via però io mi ricordavo veramente che quando parlavo appunto di realizzare progetti c'era la gente mi diceva vabbè ma a che serve tutto questo che diceva io un progetto non finanzierei mai non servirebbe a nulla non mi servirebbe a nulla sicuramente ha dato uno scossone il caso di Blue Whale sicuramente è stato quello che probabilmente ha fatto la differenza perché da quando è scoperto quel caso ho visto servizi in tv addirittura una comparsa a Sanremo se non ricordo male di qualche anno fa di alcuni ragazzi che avevano fatto un corto sul cyberbullismo e forse addirittura quello sì che ha raggiunto un milione di visitazioni quello sì è vero però ricordando ahimè che il Blue Whale in realtà ok non era una bufala di per sé però si è trattato di un fenomeno che a volte spesso inconsapevolmente gli stessi mass media infatti poi si è sgonfiato come era stato gonfiato quindi però sicuramente ha puntato i riflettori su questi fenomeni questo sicuramente e quindi cinque anni fa tu come hai fatto a allora scusa ti fermo ti fermo perché quello che mi ha stupito appunto ed è appunto per questo che il video come ti ho già detto di riferimento per quando vado in giro e lo mostro perché siete riusciti proprio come squadra a ritrarre proprio perfettamente proprio il tipico caso di revenge porn con una puntualità pazzesca dall'inizio alla fine oppure dalla fine all'inizio perché poi abbiamo capito che insomma è un piacere contrario quindi come avete fatto veramente allora io non lo nascondo se non fosse stata per la professoressa non saremmo mai riusciti ad arrivare a quel punto perché in primis questa era la nostra professoressa di diritto la professoressa Nisi che ci ha presentato questo corso sul cyberbullismo ma in realtà di sua spontanea volontà ne ha parlato ne abbiamo discusso perché ha creato delle classi anche per confrontare o eventuali esperienze o comunque delle delle nozioni in ambito digitale e poi un giorno è venuta da me e mi ha proposto di partecipare a questo concorso concorso no hate speech e quindi ovviamente l'interesse è cresciuto perché lei lo stava portando avanti con una classe io invece facevo parte di un'altra classe e quindi lei ha voluto comunque coinvolgermi perché sapeva di questa mia passione per il videomaking e quindi abbiamo formato questa squadra sicuramente se non fosse stata per lei io non avrei avuto tutta questa consapevolezza in generale tutti non avremmo avuto questa consapevolezza perché questi corsi servono quando siamo 15 16 anni 17 in generale durante tutta l'adolescenza un ragazzo è sempre arrogante cerca sempre di dire ma io queste cose le so perché sono millennial perché vivo nell'internet quindi tu che sei adulto sai molto di meno rispetto a me non è vero non è vero perché si tratta di meccanismi molto più grandi rispetto a noi quando ci troviamo davanti a delle situazioni del genere noi ci troviamo comunque senza mezzi per affrontarle e non sapevamo nemmeno come comportarci la cosa che mi fa molto piacere è che bazzicando in questi giorni sul o comunque sul web il fatto di aver cliccato sul tuo profilo di aver visto qualche intervista o qualche tuo contenuto ha permesso all'algoritmo pubblicitario di Google AdSense probabilmente che mi proponeva una quantità infinita di servizi psicologici di servizi di supporto sul cyberbullismo cioè mi fa piacere che si siano smosse così tanto le cose sul web in Italia che comunque adesso è molto più facile avere un supporto anche tangibile di quello che dell'esperienza che magari stai vivendo e niente quindi se non fosse stata per una persona che ha fatto la differenza proponendoci questa tipologia di argomenti non penso che saremmo arrivati fino a questo punto quindi devo dare a cercare quello di Cesare assolutamente certo ci mancherebbe sì va benissimo ok perfetto ascolta quindi stiamo arrivando un po' a conclusione anche se ormai appunto un po' come i tuoi video no? ti ho presentato ti ho presentato a metà per cui magari ti riserviamo gli ultimi 5 minuti per fare un twist della trama un ribaltamento qualcosa di questo un po' come gli after credits dei film della Marvel sai quindi state con noi perché forse gli ultimi 30 secondi vedrete cose strane qualche slow motion quello è sicuro qualche slow motion poi che ci salutiamo queste cose qua o robe stile TikTok no dai dai a parte scherzi quali sono i tuoi progetti per il futuro quindi? ah questo è allora progetti per il futuro sicuramente laurearmi quello è già un buon progetto è già un buon progetto assolutamente mi piacerebbe continuare a lavorare in questo ambito assolutamente cioè andare avanti dritto per la mia strada perché oltre ad essere una mia grande passione comunque il lavoro che vorrei fare in generale mi piacerebbe trattare in generale delle delle tematiche affini queste comunque che abbiamo svolto tanti anni fa ma che comunque anche adesso stiamo rispolverando mi farebbe piacere poter fare anche dei progetti personali che coinvolgessero anche queste queste tematiche e poi per il resto in realtà lascio al caso quel che potrà succedere quel che mi accadrà spero qualcosa di bene ok perfetto ovviamente poi io te lo lascio pubblico alla mia disponibilità anche caso volessi realizzare progetti di questo tipo volentieri se hai bisogno di pareri opinioni o anche una collaborazione più intensa non ti farei problema ormai siamo in contatto ok ecco poi dove possiamo trovarti poi allora metterò tutto in descrizione ovviamente quindi per chi ci sta seguendo metterò tutto in descrizione però diciamocelo dove possiamo trovarti Matteo allora in realtà ovunque perché tutti tutti i social comunque ormai sono al giorno d'oggi o tutto c'è su Instagram Matt G con il trattino basso su Facebook Matteo Maggi su Vimeo su YouTube sempre il solito nome il nickname in generale di riferimento è Matt G la crasi la famosa crasi tra Matteo e Maggi davvero poco originale ma è quella che funziona più mi spiace dirlo vabbè infatti se funziona perché no giusto assolutamente si spera vabbè allora il twist vai facciamo uno slow motion facciamo uno slow motion simulato vai vediamo vedo troppo velocemente vogliamo anche siamo là vabbè senti facciamo facciamo finta che c'è stato dai così non so te ma io mi sento molto grottesco a fare a fare queste cose quindi per l'amor del cielo ok allora qui magari come twist a questo punto guarda due minuti se c'è una domanda che tu vorresti fare a me visto che siamo partiti al contrario nel senso che siamo partiti che tu mi hai chiesto delle cose poi io in qualche modo disperatamente ribaltato dicevo no voglio intervistarlo io adesso dai a parte scherzi concediamo voglio farti una domanda che è la stessa domanda che mi hai fatto tu i tuoi progetti futuri io so che tu hai dei progetti futuri sicuramente quali sono e che cosa farai assolutamente figurati web marketer quali sono i tuoi progetti futuri e soprattutto come intendi poi anche approfondire questa tematica del cyberbullismo con i ragazzi ok allora sicuramente i progetti per il futuro andranno avanti lungo questa linea questo sicuramente quindi sempre appunto scuole passo anche così con i genitori ad esempio sto già organizzando quelle scuole già per settembre ottobre ovvio è da capire un po' come sarà la didattica dopo l'estate visto il periodo particolare che stiamo vivendo però comunque già stiamo intrallazzando stiamo concertando varie ipotesi varie alternative e così via quindi questo sicuramente come progetti futuri ci sono sicuramente anche laboratori esterni alle scuole anche qualcosa già la sto facendo mi piacerebbe intensificarli ovviamente poi bisogna vedere un po' i bandi parlando del sociale ovviamente siamo tutti vincolati in qualche modo ai bandi che emergeranno e poi parlando dell'online sicuramente beh il potenziamento della mia opera di divulgazione online non a casa appunto il canale youtube è uno di questi esempi perché sto appunto espandendo questo concetto mi piacerebbe da qui questo un po' più in là fare in modo che il canale diventi non solo mio ma diventi un progetto più collettivo infatti è uno dei motivi per cui prima era c'era il mio nome nel canale e adesso almeno in questo momento è psicologia e tecnologia molto più generico certo nella cover ci sono io perché al momento lo sto dirigendo io però non mi dispiacerebbe che diventaste un qualcosa di più stile palinsesto ecco mettiamolo così però questo sarebbe molto bello eh sì sarebbe molto bello e molto utile perché sto vedendo che fortunatamente anche in Italia adesso youtube sta diventando cioè lo è sempre stato però la gente si sta rendendo conto ecco mettiamolo così che youtube è molto altro rispetto al solito gamer o a quelli che fanno gli scherzi i prank i cosiddetti esperimenti sociali o che ne so altre cose di questo tipo in realtà van benissimo perché poi ognuno guarda quello che vuole vedere non è un problema quindi però fortunatamente io vedo che molte persone anche un po' più grandicelle stanno iniziando ad apprezzare proprio youtube anche per la formazione non solo per l'educazione quindi c'è sicuramente questo e poi in questo proprio periodo sto iniziando un po' a valutare anche delle modalità per sfruttare l'elemento online non solo per portare informazione e divulgazione agli adulti ai genitori e così via ma riuscire a fare qualcosa anche rivolto più a sensibilizzazione e a robe di questo tipo non so se sempre tramite i miei canali perché io comunque considero che quando vado nelle scuole facciamo queste cose poi inevitabilmente viene fuori anche la mia attività online e quindi poi magari i ragazzi che ragazzini anche vedono che sei su Instagram e poi iniziano a seguirti e così via io lo vedo anche quando pubblico le stories le storie su Instagram io vedo che sono tanti molti comunque una buona parte delle views che totalizzo sono di ragazzini che in qualche modo ho conosciuto nelle classi certo e questo comunque mi dà sia un onore sicuramente perché se a distanza anche di due o tre anni questi ragazzini ancora vanno a vedere le tue storie poi magari ti mandano un commento quindi comunque un segnale è lasciato ma ha anche un'enorme responsabilità per cui anche fare attenzione a quello che pubblichi e anche al come lo pubblichi sapendo che stai pubblicando un messaggio che verrà visto sia dagli adulti che dai ragazzini per cui devi un po' modulare in modo da non generare fraintendimenti perché magari tu pubblichi un qualcosa un po' più sarcastica un po' più ironica che un adulto capirebbe perfettamente ma magari un ragazzino no magari te lo prende la lettera ci rimane male perché si sente chiamato in causa magari per un evento che gli è capitato e così via quindi questo sicuramente beh peso in realtà no per un'enorme responsabilità però proprio in virtù di questo sto un po' cercando proprio in questo periodo lo lancio come spoiler perché lo sto dicendo solo a te quindi non ci sta sentendo nessuno non l'ho mai detto nessuno anche se vabbè un po' magari si intuisce si intuiva già e sto cercando appunto dei canali per portare avanti anche tutto questo questo discorso qui e infatti adesso ho messo le mani su TikTok e mi tocca e al momento non ci pubblico ancora un gran che in realtà praticamente nulla perché sto mi sto studiando vari altri account per capire se poterlo usare in tal senso e ovviamente come perché TikTok è un ambiente tutto suo ogni piattaforma è un ambiente tutto suo tu che fai questo di mestiere di video appunto lo sai benissimo quindi con l'immagine e così via sicuramente TikTok la comunicazione fare qualcosa di questo tipo comunque sarebbe rivoluzionario TikTok ha un contenuto in generale abbastanza diverso da quello che c'è sul tuo canale ed è quasi soltanto puro intrattenimento canzoni balli piccole gag esatto perché comunque subisce ancora l'eredità del vecchio musical si sta evolvendo però ancora si porta questi trascichi dietro anche se ho trovato degli account ahimè al momento ancora stranieri che invece fanno proprio anche loro la definiscono informazione per me è più sensibilizzazione perché come informazione TikTok è troppo veloce è molto è dispersivo non è come YouTube per cui io vado certo anche su TikTok però è più difficile che su TikTok io vado a rivedermi i video vecchi è più facile che io i video li consumi attraverso il feed che il suo algoritmo mi propone tra l'altro invece su YouTube c'è la ricerca e così via quindi è più una repository più stile accademia università YouTube la definisco la Wikipedia dei video non a caso invece TikTok ha questo discorso qui però appunto tornando al nostro discorso vedo che comunque sono molto seguiti ad esempio la ginecologa che su TikTok dà consigli anche molto importanti alle ragazze ovviamente ci sono più ragazze che donne ok perché è una facilità più giovane lo fa in 15 secondi lo fa in modo molto fresco molto adatto a quell'ambiente è seguitissima e commentatissima ok quindi ad esempio eppure dà dei consigli ma anche proprio sul controllo delle nascite e così via roba anche molto pesante potremmo dire però lo fa come dicevi tu mettendoci quella forma di intrattenimento in termini proprio di montaggio delle clip e così via per cui il messaggio comunque è serissimo però comunque lo fa in questo nuovo mezzo esatto ti curiosisci anche solo di vedere come lo sta realizzando beh c'è un nuovo format di un canale seguitissimo dei ragazzi che è Scuola Zoo su Scuola Zoo sì perché è veramente seguitissimo su Scuola Zoo io non mi sarei mai aspettato di vedere un format dedicato totalmente alla sessualità in generale e quindi c'è una sessuologa che parla del sesso tra ragazzi e questo è davvero molto importante perché alcune cose io non le sapevo devo essere onesto hai iniziato a parlare a discutere del sesso protetto delle relazioni in generale dell'intimità e devo dirti che mi è veramente piaciuto tantissimo perché magari delle pagine di così ampio raggio si mettano a disposizione degli utenti anche da un punto di vista educativo può fare la differenza perché comunque un ragazzo che non se lo aspetta vede la scritta sessuologa parla di sesso protetto su scuola uno va a leggere va a sentire quello che dice e comunque è importantissimo anche perché magari in questo periodo in cui non si può andare a scuola e magari viene sottovalutato l'insegnamento dell'educazione sessuale magari può anche essere d'aiuto un contenuto di questo certo va bene guarda abbiamo aperto un sacco di finestre Matteo quindi sicuramente abuserò te lo dico proprio pubblicamente senza problemi abuserò ancora della tua disponibilità in futuro perché sono temi che mi piacerebbe mi piacerebbe come dicevo divulgare soprattutto in questo caso magari i genitori per comprendere meglio il digitale dei loro ragazzi ok quindi noi oggi siamo ci eravamo incontrati con l'idea Revenge Porn e giustamente abbiamo fatto due chiacchi quindi siamo andati oltre va benissimo perché ci stava mi piacerebbe dedicare poi dei video proprio per questi per questi argomenti ovviamente poi ne parleremo ok quindi allora ripetendo per chi ha avuto il coraggio non lo so la forza di seguirci fino ad ora più che altro perché ho perso proprio il conto che forse abbiamo anche esplorato l'ora l'ora sì probabilmente che è della serie che contro ogni principio del web marketing del web di Zetom sai proprio tagliuzza 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 no no lo tengo integrale e poi allora sì sicuramente lo tengo integrale e poi dopo ovviamente farò uscire anche i video tematici per argomenti quindi questo sicuramente tranquillo comunque quindi rivolgendomi di nuovo a chi stavo dicendo a chi ci sta seguendo quindi allora innanzitutto io ti ringrazio Matteo per la tua disponibilità anche la tua la tua energia e tutto quanto è stata veramente bello vedere come da quella che era nata nei nostri intenti come un'intervista è diventata poi una chiacchierata ed una riflessione che parte da un tema molto importante quello del range porn per poi passare al discorso dei dei media per i nostri ragazzi e così via quindi grazie perché ci ha anche aiutato a riflettere più a 360 gradi sul ruolo del digitale per i nostri ragazzi perché per i nostri ragazzi ma il digitale è visual foto video c'è poco da dire cioè leggono anche ci mancherebbe però è principalmente visual quindi sicuramente e ti ringrazio e grazie mille ringrazio quindi stay tuned perché ti ripiglio e ringrazio anche chi ci ha seguiti fino ad ora ricordatevi che trovate tutti i riferimenti di Matteo in descrizione quindi anche il video di cui abbiamo parlato oggi sicuramente poi lo linko così poi potete andare a vedere appunto questa cosa qui non è detto che potrei farci un commentario mio per cui commentando proprio il video però adesso vediamo innanzitutto però prima di tutto andate a vedere il video al link vi iscrivetevi al canale attivate le notifiche tutto quanto però ormai è un po' tardi dirlo perché se no vi è noio dai sapete già che cosa fare va bene grazie di nuovo Matteo grazie a tutti un saluto da Ivan Ferrero ciao ciao